Grazie Allora, c'è una promozione, comprate quattro confezioni a 6 euro, invece di otto Questa è la proponente della lunetta, che con il cioccolato, sempre quattro confezioni a 6 euro Ah ok La metto con un disco qui Allora, è buono l'assaggio, ma sappiate che c'è una promozione quattro confezioni a 6 euro Queste qua sono le proponenti delle lunette Posso avere? Sì, va benissimo Anche a lei, ecco C'è una promozione quattro confezioni a 6 euro Canestrello? Canestrello buono Grazie Canestrello non ce l'ho più, sto venendo Grazie Nooo Sì Nooo No Nooo 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 è bellissima Grazie. Allora. Grazie. Un pezzo di crostata. Grazie. 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 C'era tua cugina, che era pure l'imparazzo. Noi siamo facciando tutto. Tre persone o no? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.